La Fondazione Franco De Marchi è veramente molto felice di far parte di questo progetto perché l'educazione fra gli interessi che la Fondazione porta avanti non solo come ricerca di studio ma anche come progetti che in qualche modo mettono in risalto quelle che sono le competenze e le capacità dei territori. Strike va proprio in questa direzione, fa emergere quelli che sono i talenti dei giovani e li premia. Ma la sfida per gli striker non finisce qua. La Fondazione De Marchi li chiederà infatti di mettersi a disposizione per la formazione. Questa volta in cattedra andranno loro.